In 24 ore è messo il revocato di vieto di bagnazione sulla costa pesarese. Guardia di finanza un anniversario da 550 indagini. Innovation Day, il futuro della nautica al cantiere Rossini. Dopo due anni di stop torna la festa del porto. Italservice domina gara 2 e domani punta al terzo scudetto. Buonasera cari telespettatori e care telespettatrici di Rossini. Per questa nuova edizione del Rossini News, telegiornale di venerdì 24 di giugno, che apriamo con le immagini che vi mostriamo inerenti al lungomare di Levante e di Pesaro. Perché è durato meno di 20 ore, il divieto di bagnazione è messo ieri sera attraverso un'ordinanza del comune di Pesaro sul tratto di litorale, compreso fra le estremità sud di Viale Trieste e il sottopasso dei Gelsi. Nella serata di ieri, infatti, l'assessore all'ambiente Aidi Morotti aveva comunicato come le rilevazioni dell'ARPAM nelle acque di questo tratto di mare avessero rilevato delle condizioni batteriologiche superiori ai limiti previsti di legge. Una rilevazione fuori scala dalle cause sconosciute, ma che questa mattina ha visto nuovi campionamenti dell'ARPAM che hanno visto rientrare i valori nella norma consentendo il ripristino delle condizioni di bagnazione. L'assessore Morotti riferisce che nei prossimi giorni si proseguirà con il monitoraggio attraverso ulteriori analisi. E continuano a moltiplicarsi le ordinanze comunali che limitano il consumo d'acqua visto il perdurare delle condizioni di siccità e di rischio di approvvigionamento idrico. Dopo Montelabate e Vallefoglia che hanno fatto da apripista, anche i due comuni più popolosi di Pesero e Fano mettono il limitatore al consumo d'acqua per usi diversi da quello alimentare e dell'igiene personale. I trasgressori sono punibili di sanzione che varia dai 25 ai 500 euro. E questa mattina presso la caserma della Guardia di Finanza di Pesero e Urbino si sono tenute le celebrazioni per il 248esimo anniversario di Fondazione delle Fiamme Gialle un'occasione per fare il punto su un anno di indagini. Con tre giorni di posticipo rispetto alla tradizionale data del 21 giugno la Guardia di Finanza di Pesero e Urbino ha celebrato questa mattina il 248esimo anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle. Un anniversario procrastinato per non sovrapporsi a concomitanti e cerimonie che ha consentito di fare il punto su un anno e mezzo di lavoro intenso tradotto in numeri. Dalle 550 indagini per illeciti economico-finanziari agli 80 soggetti denunciati per reati tributari agli annessi 10 milioni di euro di beni sequestrati. E ancora l'individuazione di 50 evasori totali completamente sconosciuti al fisco così come di 60 indebiti per settori di reddito di cittadinanza. Numeri che si allungano a 20 persone denunciate in materia di riciclaggio agli accertamenti patrimoniali su 47 soggetti in applicazione della normativa antimafia fino al contrasto al traffico di stupefacenti e alla contraffazione che hanno portato a sequestrare un chilo complessivo di sostanze e due milioni di prodotti industriali contraffatti. Un impegno che ora si aggiorna a nuove criticità da quelle derivate dai bonus edilizi agli abusi sui fondi PNRR. La Guardia di Finanza ormai da diversi anni si è evoluta sempre più in una forza di polizia a me piace chiamarla forte vocazione sociale proprio perché è prossima di vicinanza ai cittadini e alle imprese oneste e corrette. Ovviamente in questo lavoro la nostra azione è poliedrica e a 360 gradi ovviamente durante il periodo della pandemia e poi adesso con l'emergenza sanitaria che si è innestata anche una emergenza ormai planetaria direi anche la Guardia di Finanza ha evoluto ovviamente la sua azione e quindi dalle attività che consome dell'attività in materia fiscale a contrasto quindi dell'evasione, dell'elusione si sono poste in essere delle iniziative ovviamente più puntuali in merito a tutti i bonus e quindi agli incentivi che le autorità di governo ovviamente hanno iniettato nel sistema economico. In tema di evasione fiscale Blandini valuta così la provincia di Pesaro Urbino Sicuramente è un territorio ritengo sano con una ovviamente propensione all'evasione che è fisiologica ritengo quindi non individuo situazioni di particolari criticità però dobbiamo anche tenere presente che in momenti soprattutto di particolari criticità economica ovviamente la nostra azione deve essere sempre più presente perché nei momenti di particolare debolezza ovviamente le infiltrazioni della criminalità che non esiste soltanto la criminalità organizzata esiste anche una criminalità economica aggressiva che ovviamente potrebbe ledere quello che è invece un territorio sano fatto da persone che lavorano in maniera corretta ma noi siamo appunto a presidiare anche nei confronti di quella fisiologica attività di evasione che ovviamente è presente ovunque. È stata anche una mattinata di encomi alle fiamme gialle pesaresi distintesi per particolare valore e abilità in alcune operazioni sono stati premiati Leonardo Nardella, Vito Scattaglia, Michele Ripoli, Salvatore Panico, Antonio Di Benedetto, Simone Zanzani, Vito Quacquarelli, Salvatore Tescione, Leonardo Trippetti, Antonio Ricchetti, Domenico Saccone e Stefano Grassi. La vasca di colmata che consentirà il dragaggio del porto si effettuerà ma non c'è ancora certezza sui tempi è questo uno dei temi emersi ieri sera durante la visita a Pesaro di Vincenzo Garofalo autorità marittima del medio adriatico che ha ascoltato le istanze degli operatori del porto cittadino. C'è un dragaggio che è atteso da decenni c'è una vasca di colmata che va realizzata al più presto per poter pensare al dragaggio, al deposito dei fanghi dragati e in sostanza a fondali più consoni alle attività dello scalo pesarese. Sono stati questi i temi principali affrontati giovedì sera dagli operatori del porto di Pesaro durante la visita in capitaneria della nuova autorità portuale del medio adriatico Vincenzo Garofalo un'autorità che di fatto sovrintende tutti i porti di Marche Abruzzo. Garofalo ha fornito buone rassicurazioni sulle intenzioni di realizzazione delle opere ma più difficoltà a livello di tempistica per una macchina operativa e burocratica alquanto complessa. La autorità portuale ha già avviato questo percorso da tempo noi abbiamo all'incirca nell'arco di quattro mesi potremmo anche arrivare a un punto interessante cioè quello di avere un adeguamento tecnico funzionale pronto quindi direi che entro l'anno dovremmo riuscire ad avere l'approvazione di un adeguamento tecnico funzionale e dopo inizia la parte che riguarda ovviamente l'analisi che viene fatta al Ministro dell'Ambiente quindi tutte le autorizzazioni che devono essere date all'ambiente e lì non possiamo dare un tempo certo perché è un procedimento che ha una sua conduzione abbastanza complessa speriamo che vengano affrontati con tempi veloci ma un tempo non posso assolutamente dirlo. Durante l'incontro è emerso anche che il 6 luglio verrà completata la prima bozza del piano regolatore del porto che con tempi anche in questo caso lunghi andrà poi integrato al piano regolatore della città di Pesaro altro tema trattato è stato quello della possibilità di trasportare i sedimenti a largo. Purtroppo voi sapete che il problema dell'intero Adriatico, perlomeno parlo di quest'ambito, della regione Marche è quello di trovare dove depositare i sedimenti. Noi abbiamo in ogni caso sempre in corso una richiesta di autorizzazione per poter trasportare quei sedimenti che sono trasportabili a largo della costa però bisogna vedere e non ci aspettiamo un'analisi favorevole da questo punto di vista nell'ambito del porto di Pesaro. Restiamo in tema di porto parlando di Nautica e dell'Innovation Day che oggi si è tenuto al cantiere Rossini in occasione dei 25 anni dell'azienda Plan Studio. Vediamo. Oggi siamo qua a presentare tutte le novità e soluzioni innovative per aiutare le aziende a migliorare i propri processi produttivi. Siamo in un momento storico dove c'è un grande esplode di richieste quindi tante barche, tanti arredi e i clienti ci chiamano continuamente chiedendoci se conosciamo figure professionali, esperte nel mondo dell'arredo quindi da tecnici a project manager e questo ci ha mostro un po' gli animi perché se non troviamo le figure sicuramente dobbiamo attivare delle collaborazioni e allora ci siamo chiesti per i nostri 25 anni perché non mettere insieme un po' tutte le aziende, la filiera dall'artigiano all'industria e li mettiamo in contatto e gli mostriamo anche come grazie alle nostre soluzioni possono lavorare insieme, collaborando e facendo fruire il dato da un'azienda all'altra in modo semplice. Questo qui comporta un'ottimizzazione assolutamente dei processi, dei tempi, dei costi, una riduzione degli errori anche nel passaggio delle informazioni da un'azienda all'altra e agganciandoci un po' al tema anche della sostenibilità anche questo è sostenibilità perché se risparmio materiale è risparmio tempo comunque andiamo a ridurre le emissioni se vogliamo di CO2 piuttosto che rendiamo la vita dei nostri ragazzi un pochino più semplice. Andiamo a capire un po' meglio quali sono le realtà che oggi ospitate che interagiscono con quelli che sono gli obiettivi di PlanStudio. Insomma le realtà sono trasversali abbiamo dei cantieri nautici abbiamo da chi fa arredamento per la nautica chi fa arredamento per la casa per il contract generale residenziale abbiamo studi di progettazione questo sempre per cercare di creare un ecosistema quindi abbiamo lo studio di progettazione che progetta prende e trasferisce i dati alle aziende che producono le aziende che producono prendono e trasferiscono i dati ai loro fornitori e quindi stiamo creando un ecosistema per mettere in contatto le aziende tra di loro specialmente adesso dove c'è un grosso aumento di richiesta nel settore nautico una azienda da sola non riesce a sopperire tutti i fabbisogni uno per questioni proprio di tempo, di produzione uno per questioni di tipi di materiali perché in un arredo nautico o anche in un contract di lusso abbiamo acciai, abbiamo marmi abbiamo materiali presati, pelli e nessuna azienda riesce a fornire un prodotto completo quindi hanno bisogno di collaboratori tante aziende che fanno cose diverse per fornire un prodotto unico e di qualità dove si colloca un po' la realtà pesarese nel panorama nazionale in questo specifico settore? la realtà pesarese è una bella realtà perché il polo del mobile pesarese comunque non faccio adesso nomi però abbiamo aziende che lavorano sia nel mondo della nautica piuttosto che nel mondo del contract ci sono tantissimi artigiani anche collegati alle aziende più grandi e quindi non solo nel pesarese ma un pochino in tutto la Fano, se vogliamo parlare delle marche in realtà è qualcosa che coinvolge tutte le aziende a livello nazionale oggi qua abbiamo realtà che arrivano anche da Milano piuttosto che da Genova insomma alla Spezia piuttosto che dall'Apruzzo quindi il nostro compito oltre a presentare tutta una serie di soluzioni e facilitare la vita ai nostri clienti a livello proprio operativo e anche metterli in contatto tanto che prima in sala conferenza ho presentato un nuovo progetto che è embrionale per poter disegnare un programma formativo preciso per poter formare ragazzi o motivare i ragazzi nell'ambito cioè come professione tecnici esecutivisti nel mondo della nautica e non solo per fare questo però come facciamo a disegnare un programma formativo? abbiamo bisogno delle aziende quindi ho chiesto alle aziende di lasciare per chi vuole il loro nominativo per poter fissare degli incontri dopo questo evento e delineare il profilo la persona che serve all'interno dell'azienda per poter fare un programma formativo e vi ricordiamo che potete approfondire i temi di Plan Studio e dell'Innovation Day tenutosi in questo venerdì al cantiere Rossini attraverso uno speciale che Rossini TV ha realizzato e che giovedì 30 giugno andrà in onda alle ore 20.10 sul canale 80 ed ora una terza notizia inerente al porto di Pesaro quella che vede tornare la tradizionale festa del porto dopo due anni di stop a causa della pandemia si comincia lunedì con una settimana ricca di appuntamenti la festa del porto ritorna due anni di stop purtroppo per il covid siamo tornati ovviamente con meno tempo per organizzare una festa che dura bene una settimana partiamo lunedì con la processione perché comunque la festa del porto nasce come festa cattolica cristiana si chiamava festa della Madonna alla Scala adesso festa del porto poi ripartiamo con la festa della gruppa o festa della famiglia comunque condivisione del cibo una serata per stare insieme ascoltare musica ridere scherzare il lumachino e quest'anno non ci sarà il concorso ma mangeremo insieme rideremo saluteremo in alto a Paolo Gurini che da poco ci ha lasciato come anche il cencio in pochi sanno chi fosse il cencio invece i portolotti lo conoscono molto molto bene uno che dava la sua manovalanza sempre assolutamente poi venerdì venerdì ci sarà una serata culturale con Pesaro Sigreta biblioteca oliveriana con la dottoressa Brunella Paolini e 14 saxofonisti della sax orchestra in questa maniera ci alterneremo per il racconto del mare del porto con un breve racconto di Eleonora Rubicchi Mensitieri che per la prima volta proverà il dialetto portolotto non assicuro niente il giorno dopo la domenica domenica il motoraduno Benelli poi ovviamente il lancio delle corone in mare alle 11.30 con la motonave e tutte le altre barche poi al pomeriggio bancarelle obbisti tanti gruppi musicali balli di gruppo e poi arriverà la colonna portante musicale della festa del porto Gio Castellani con il suo gruppo e quest'anno ho la netta sensazione che presenterà una sua canzone nuova poi fuochi d'artificio incredibili offerti da San Italia BS Calata 15 Vela ne sto dimenticando tanti ma è una una cordata di di personaggi che hanno voluto comunque essere alla festa del porto perché la festa del porto non deve assolutamente finire anzi deve essere sempre più grande e quest'anno abbiamo anche una grandissima manovolanza quindi qualcuno che ci crede in noi c'è sempre vi aspettiamo quindi il 3 luglio dal mattino a notte festa del porto Calata Caio Duiglio siamo lì ad aspettarvi altro bel bottino per il comune di Pesero attraverso il PNRR che si accaparra altri 4 milioni e 250 mila euro per il restauro e il recupero di giardini storici e per l'efficienza energetica dei teatri metà di questi li intercetta la provincia per i giardini di Villa Caprile che saranno riqualificati che si aggiungono ai precedenti 6 milioni intercettati per provvedimento antisismico all'istituto Cecchi 1 milione 800 mila euro invece sono stati intercettati per i giardini di Villa Miralfiore mentre per quelle che riguarda i teatri arrivano 378 mila euro per l'efficientamento energetico dello sperimentale e 186 mila euro per il rifacimento termico ed illuminazione del teatro Rossini anche Fanno tiene 400 mila euro per l'efficientamento energetico del teatro della fortuna dopo le segnalazioni di degrado a Rocca Costanza ieri vi abbiamo mostrato come Comune e Aspes sono intervenuti ieri con la pulizia esterna aggiungendo oggi un radicale intervento di spalci e pulitura del fossato nel primo giorno in cui è stato consentito l'accesso al bene demaniale il ministro alle infrastrutture Enrico Giovannini sarà al teatro sperimentale di Pesaro venerdì primo di luglio alle ore 16.30 per un incontro sull'arretramento ferroviario del potenziamento della tratta adriatica Bologna-Lecce ne parlerà con il sindaco Matteo Ricci con il quale discuterà anche di progetti futuri inerenti ad altre infrastrutture del territorio Ed ora lo sport riviviamo in questo servizio le emozioni della finale scudetto di calcio a 5 che ha visto Little Service dominare per 6 a 1 contro la fel di Eboli e che domani a Pesaro si giocherà l'atto conclusivo per provare a vincere il terzo titolo consecutivo polverizzata la sfortunata serata di Eboli in un palafiera pieno di tifosi pesaresi Little Service trapazza la fel di 6 a 1 si porta sull'1 a 1 nella serie scudetto e si guadagna la decisiva gara 3 di sabato ancora al palafiera ancora le 20.30 con ottimi argomenti per provare a cucirsi sul petto il terzo tricolore consecutivo in gara 2 bastano una ventina di secondi a Salas per indirezzare la contesa sull'1 a 0 con una fucilata imparabile 1 a 0 che si mantiene intatto fino al riposo poi nella ripresa Bolo inizia presto il suo show dopo un'altra ventina di secondi che sarà il preludio ad una tripletta ingrossata da Taborda e ancora da Salas per il 6 a 1 finale intervallato dal momentaneo 4 a 1 di Eboli con Bissoni soddisfazione enorme per il presidente Pizza e per la squadra guidata per l'occasione da Davide Barnesi che sostituiva lo squalificato Fulvio Colini l'obiettivo raggiunto arrivare a giocare sabato con questo pubblico qua era al minimo da fare ottenere una vittoria ed è venuta anche giocando bene è una finale loro sono venuti qua a giocarsi un match point e quindi hanno giocato fino all'ultimo primo tempo abbiamo tenuto e poi il portiere di movimento ha dato la partita a noi felice ma sappiamo che ancora dobbiamo vincere un'altra per avere l'escudetto quindi riposare il sabato è la più difficile Eboli è una squadra che sta in forma è arrivato in equilibrio con noi stiamo dando tutto per lasciare a casa l'escudetto quindi sabato sarà una partita bellissima noi non dobbiamo fare gli errori di pensare di aver vinto cioè non abbiamo vinto niente siamo 1 a 1 quindi non dobbiamo abbassare la concentrazione sono contento che per la partita di sabato rientrerà Fulvio Colini che sicuramente saprà dare quell'input in più per affrontare al meglio la partita al di là della partita che è stata una partita meravigliosa e emozionante chiaramente a me ha fatto tantissimo piacere ha dato tanto orgoglio vedere così tanta gente al Palafiera tanto voglio dire io l'ho detto avevo fatto quel post ero molto dispiaciuto non ce l'avevo con nessuno era solo un dispiacere perché durante la partita alla semifinale con Napoli c'erano solo 500 persone questa sera c'è stata una grandissima risposta del pubblico sai per noi presidenti che ci mettiamo l'anima ci mettiamo il tempo ci mettiamo lo spirito e ci mettiamo anche investiamo tanti soldi vedere il palazzetto così pieno è motivo di orgoglio e ci fa capire che che stiamo facendo bene ecco chiaramente magari in quel momento era un un giorno così un momento di sfogo però ecco questa è la risposta migliore quindi la più grossa felicità al di là della vittoria che ci porta sabato alla gara 3 e vedere così tanta gente un palazzetto così pieno io spererei di vederlo sempre durante tutte le partite e le interviste ieri al Palafiera sono state realizzate dalla nostra direttrice Emanuela Rossi che tra gli spalti ha anche scovato un inatteso ospite a sorpresa a tifare Italservice Lele Mora a Italservice calcio a 5 Pesaro qual buon vento con la maglia dell'Italservice Italservice è una bellissima azienda che ti sta vicino e è giusto e poi è la prima volta che vedo una partita di queste mi sono divertito tantissimo ho anticipato tutti i gol e il nome di chi segnava quanto tempo rimarrà qui a Pesaro? ma dobbiamo anche venire a vedere la finale perché se abbiamo portato bene per la semifinale dobbiamo tornare anche alla finale sono venuto perché ho degli amici che lavorano qua e allora siamo venuti giù apposta sulla maglia c'è scritto Mediolanum il nuovo presidente è un mio amico a Pesaro io venivo tantissimo prima quando c'era Luciano Pavarotti che abitava qua vicino qua abbiamo fatto registrato Miserere quando io dalla Camarca ho portato Zucchero a Vocelli e dopo siamo venuti da Pavarotti a fargli sentire il tutto poi gliel'abbiamo fatta fare in un giorno che lui partiva poi per la Cina posso farci una domanda così un po' strana quanti chili hai perso? tra prima e dopo ne ho persi 60 prima li ho persi perché ero in vacanza operiana e non è stato bello poi dopo mi è venuto col vaccino dopo il vaccino mi è venuto il diabete causato dal vaccino e ho perso che non mangiando più zuccheri pasta pane ci perde chili adesso cosa sta facendo Lele? sempre il mio lavoro faccio i programmi faccio format e lavoro in tutto il mondo sto facendo il telegatto che a giorni sarà sto portando come gli altri anni tutte le star importanti per dare i premi al premio della televisione vediamo adesso siamo in fase lavorative a fine maggio vedrete una bella trasmissione e con lo sport si conclude qui questa nuova edizione del Rossini News prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti in serata perché questa sera alle ore 21.20 c'è lo speciale realizzato da Rossini TV in merito al conferimento del sigillo di Ateneo a Davide Mazzanti attuale CT della Nazionale Italiana femminile di pallavolo e poi come tutti i venerdì se vi siete persi la trasmissione di Vox Pop andato in onda alle 19 potete seguirlo alle 22.30 e poi le repliche nei giorni successivi e infine buongiorno Rossini la rassegna stampa dei quotidiani della provincia di Pesero Orbino domani mattina come sempre in diretta alle ore 7.20 vi aspetterà il nostro Antonio Astuti e con questo si conclude il nostro spazio dedicato all'informazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata